di Padova, poi è stata spiegata anche all'Università di Trento, adesso attendiamo le valutazioni. Che cosa vi spinge a sostenere di più la strada di Padova che non la proposta autonoma dell'Università di Trento? Trento l'ha messa in piedi in tre settimane dopo che per vent'anni non se ne era mai parlato, e quindi questo è già positivo chiaramente, perché avrà valutato la percorribilità fattiva della cosa, fattiva vuol dire iniziare l'anno prossimo, iniziare il quinto o sesto anno, iniziare con le strutture che siano in grado di farlo. Crediamo che Padova abbia questa caratteristica, però ovviamente questo deve essere fatto anche secondo noi il più possibile coinvolgendo l'eccellenza del territorio trentino, però la prima cosa da fare è partire a breve perché c'è da rispondere nel più breve e talmente in tempo possibile alla carenza dei medici che c'è sul territorio. Questo è il problema principale. Il resto è diplomazia che se la risolviamo bene, altrimenti il problema principale rimangono i medici.